L'estate è già arrivata e ancora non siete pronti per la prova costume? Tante diede invado nel web ma nessuno fa il caso vostro, la soluzione arriva dall'America con una nuova app. La dieta come gioco a premi, il denaro come premio per i chili persi usando un social network. Nasce la social dieting, diet bet, dove dimagrire diventa una scommessa. Diet bet è una nuova piattaforma online in cui gli utenti si lanciano nell'impresa di perdere 4% del proprio peso corporeo in 4 settimane. Una dieta in cui si scommettono soldi a meno 25 dollari. Chi raggiunge l'obiettivo divide la somma con gli altri vincitori. Sempre più persone si registrano e le stime dichiarano che oltre il 90% degli utenti perde peso e circa il 40% vince. Chi partecipa dovrà fotografarsi sia prima che dopo l'inizio dell'impresa e chi perde più del 12% del proprio peso corporeo in un mese viene squalificato. Come altre creazioni del genere, diet bet diviene pubblico e gli oppositori lo descrivono come l'esempio peggiore del social diet.